E' ancora tutta da ricostruire da parte dell'infortunistica della polizia locale di Fano l'esatta dinamica dell'incidente che questo pomeriggio poco dopo le 15 lungo via Pertini all'altezza del distributore Kuwait ha visto il coinvolgimento di tre veicoli ed una donna di 47 anni finire in codice giallo al pronto soccorso del Santa Croce. La donna che procedeva in direzione Pesaro a bordo della sua lancia Y dopo un rapido testacoda si è intraversata invadendo completamente la corsia opposta rendendo così inevitabile l'urto violento con un furgone di una ditta locale che procedeva in direzione Ancona condotto da un trentenne di Pavia. Secondo le prime ricostruzioni ad innescare la disastrosa carambola della lancia Y sarebbe stata una collisione sul fianco sinistro avvenuta una decina di metri prima con un potente SUV proveniente in senso opposto che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo alla donna. Sul posto oltre al 118 arrivato per prestare le prime cure alla 47enne anche due pattuglie della polizia locale di Fano che una volta eseguiti i rilievi di rito dovranno ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.